Stereo 5 TV presenta l'almanacco del giorno in studio Luigi Comentale Sambato 23 settembre 2023 San Pio da Pietralcina, auguri ai festeggiati, la settimana era numero 38, i giorni dall'inizio dell'anno 266-99 alla fine A Roma il sole sorto alle 5.59 tramonta alle 18.06 ora solare, a Milano alle 6.12 tramonta alle 18.18 sempre ora solare Luna che si leva alle 14.12 per tramontare alle 23.42, equinozio di autunno alle ore 7.49 Proverbio di oggi, brache, tela e meloni di settembre non sono poi buoni Nel 1868 siamo da Cadde, Portorico dichiara l'indipendenza dalla Spagna In questo giorno, ma nel 1875, William Bonney, Billy the Kid, viene arrestato per la prima volta Nel 1884, Herman Hollerith brevetta la sua dizionatrice meccanica Nel 1889, quando la Nintendo è fondata a Kyoto Il 23 settembre del 1985, Giancarlo Siani, giornalista italiano, viene assassinato dalla Camorra a soli 26 anni La NASA nel 1999 annuncia di aver perso il contatto con il Mars Climate Orbiter Nel 2002 nasce Mozilla Firefox versione 0.1 Nel 2011 un team di ricercatori del CERN di Ginevra e del Laboratorio Nazionale del Gran Sasso annuncia nell'ambito dell'esperimento Opera di aver rilevato in un fascio di neutrini una velocità maggiore di quella della luce Siamo ai nostri auguri di buon compleanno Carl Brau cantautore, Cristina Donà cantautrice, Diego Bortoluzzo allenatore di calcio ed ex calciatore Paolo Rossi ex calciatore scomparso, Gino Paoli cantautore musicista italiano Gli scomparsi di oggi, nel 1973, Pablo Neruda, autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana Nel 1985 abbiamo già detto Giancarlo Siani, un simbolo del giornalismo italiano Nel 1943 salvo d'acquisto, uomo simbolo della secolare storia dell'arma dei carabinieri ed eroe nazionale italiano A lungo andare è solo il capace a fortuna, lo dice Menandro Menandro, perdone questa è la nostra frase aforisma Finisce qui il nostro Almanacco, un saluto da Gino Commentale A domani e grazie, ciao L'Almanacco torna domani